Sono stati ripartiti con un decreto del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi 350 milioni di euro stanziati dal decreto sostegni bis per garantire l'avvio dell'anno 2021-2022 in sicurezza. Risorse che i dirigenti scolastici potranno utilizzare per l'acquisto di dispositivi di protezione di materiale per l'igiene individuale o degli ambienti, per acquistare strumenti per la reazione quanto ritenuto utile per migliorare le condizioni di sicurezza all'interno degli istituti. L'assegnazione dei fondi verrà nei prossimi giorni insieme all'invio di un'apposita nota che il ministero dell'istruzione fornirà alle scuole con le istruzioni operative per l'utilizzo delle risorse.